ciao ragazzi ho appena sentito l'altra 4 c allora tuo uomo mi lascia il 4 c nel caso lui morisse però essendo che se muore la despa quindi non esce e lascia te q4 e se tu mori se tu mori mi lasci q4 è un'eredità congiunta cattiveria e competitività e maragomano vogliamo vedere il sangue le sportellate sportellate e sangue ma entraci di cattiveria bene ragazzi buona sfida alla prossima grazie